E questa strada che ho fatto l'ho fatta assieme a moltissime persone. Compia oggi 50 anni Luca Zaia, il ragazzo di Bibano di Godega, la promettente leva del carroccio di Giampaolo Gobbo e Giancarlo Gentilini che la prima campagna elettorale l'ha fatta nel 93, a soli 25 anni, da allora ne ha fatta di strada e sui social si susseguono i post di auguri. Oggi è il governatore più amato d'Italia e per molti il premier ideale. Chissà se a 28 anni da assessore provinciale all'agricoltura immaginava che avrebbe sottoscritto nel 2018 l'accordo con il governo per l'autonomia del Veneto. Traguardo inseguito ostinatamente con l'aperto consenso dei Veneti andati a votare in massa al referendum del 22 ottobre. Vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra, vince la voglia di dire che nell'arvio da rispetto della Costituzione e delle leggi si possono fare le reforme. Ma di tappe in questi 25 anni di politica Zaia ne ha compiute tante. Presidente di provincia, più giovani d'Italia nel 98, anno in cui ha sposato Raffaella. Nel 2005 vicepresidente della regione, ministro dell'agricoltura nel 2008, presidente del Veneto dal 2010. Grande comunicatore, sempre tra la gente, presente sui luoghi dei più dolorosi disastri ambientali. L'alluvione di Vicenza e Padova, la tromba d'aria di Valladiriese e poi Refrontolo, la rivera del Brenta, Cavallino Treporti, con lo spirito di risollevarsi subito. Il metodo Veneto è quello di far veloci, di essere rapidi e soprattutto di pensare al bene dei cittadini. Sportivo, appassionato di corsa, bicicletta ma soprattutto di cavalli. Per lui il compleanno ideale, ci permettiamo di azzardarlo, sarebbe probabilmente una giornata trascorsa nella natura all'aria aperta. E chissà che non sia andata davvero così.